Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite mi è stata presentata come un'autentica forza della natura, sicuramente è una persona molto determinata e ciò lo si evince navigando in internet, andando a vedere due siti cui lei collabora in maniera importante, quello di Team for Italy e quello di progetti educativi. La base di partenza dell'odierna trasmissione è proprio il Team for Italy che è nato recentemente, comunque dall'esperienza di progetti educativi. Un'altra iniziativa è stata fatta nello scorso mese di ottobre a Mestre Next che si avvicina, ha voluto avvicinarsi un po' come metodologia a altre esperienze che arrivano oltre l'oceano che si chiamano TED, che sono, chiamiamoli, dei laboratori dei, insomma, delle occasioni in cui si dà spazio ad esperienze che sappiano guardare oltre l'immediato contingente. Il bello di tutta questa iniziativa è proprio la speranza, la voglia comunque di riuscirci, la determinazione che la caratterizza. Il mio è solo un quadro di sentimenti, insomma, adesso ad Alessandra Giraldo la parola per spiegare che cos'è Team for Italy. Beh, grazie per questa splendida presentazione. Innanzitutto Team for Italy, è bene specificare, è un gruppo di cittadini che ha deciso di collaborare insieme per mettere a disposizione le proprie conoscenze e le proprie competenze. È un gruppo di cittadini che non si conosce fisicamente, questa è un po' la novità di questo gruppo. Ci siamo conosciuti online tramite i social media, i social network, quindi tramite Twitter principalmente e Facebook. abbiamo visto che c'è la necessità oggi in Italia di reinvestire nella cultura e soprattutto nella sensibilizzazione verso la cittadinanza, nella partecipazione attiva. Quindi dare quasi un input, un impulso al risveglio culturale e alla partecipazione dei cittadini. In un momento di crisi economica, di crisi politica e in cui forse possiamo anche essere forse abbattuti per lo scenario che possiamo avere davanti, non dobbiamo dimenticarci, però non dobbiamo dimenticarci di una ricchezza che a volte dimentichiamo, che sono le nostre competenze. Ognuno di noi è portatore di una ricchezza enorme, quello che ha imparato nella vita, quello che sta imparando e le potenziali conoscenze e esperienze che può fare e che diventano ricchezza ancora più grande se le trasmettiamo ad altri. Se poi riusciamo anche a metterci in rete, a collaborare e a vedere come possiamo interagire per crescere insieme, questo diventa un potenziale esplosivo appunto. Nasce così un gruppo, semplici cittadini, non è un'associazione, non è un gruppo politico, una lista civica, semplicemente cittadini desiderosi di collaborare insieme, di capire cosa ognuno di noi può fare per migliorare la propria città e il proprio paese, ognuno ovviamente con le proprie passioni, i propri ambiti professionali. E nasce l'idea di creare online un sito teamforitaly.com, che sia inizialmente un bacino di raccolta di idee e di tematiche di dibattito, quindi dalla Convenzione di Istanbul, che è appena stata ratificata dall'Italia sulla violenza contro le donne, sul femminicidio, alle tematiche della salute e della prevenzione, ai grandi temi della scuola. Quindi un bacino anche abbastanza generale, in cui possiamo provare a riflettere su quali sono le tematiche da discutere come team, ma anche aprirlo agli utenti. Attraverso i social network questo diventa un processo di costruzione continuo, perché ovviamente chi si collega tramite Twitter o tramite Facebook interagisce in modo diretto, dà il proprio contributo. Un esempio molto semplice, pochi giorni fa, proprio a metà ottobre, è stata lanciata la campagna Operazione FAME da Action Aid, per riflettere sul fatto che non manca il cibo, ma mancano gli strumenti a volte per dar da mangiare a tutti. E' nato un piccolo dibattito su Twitter su come a volte il cibo viene sprecato nelle mese scolastiche o spesso purtroppo anche nelle nostre case. Infatti noi oggi produciamo nel mondo più cibo di quello che sarebbe necessario, solo che c'è chi mangia dal primo alla frutta e al dolce, e chi invece non ha nemmeno di che nutrirsi. Da questo spunto molto interessante è nata un'altra considerazione, quali strategie posso adottare io in casa per non buttare via il cibo avanzato? E c'è stata una vera e propria esplosione di entusiasmo da parte di mamme, nonne, signore, cittadini, che hanno iniziato a inviare delle ricette di riciclo di cibo. E' nato il riciclo di cibo con il pane vecchio, il pan grattato, la pasta avanzata. Sono piccoli segnali, però... Ma che vuol dire, era ciò che facevano le nonne, le mamme. Era ciò che si faceva una volta, insomma. Quindi i cibi sani, una certa attenzione magari nell'acquisto, senza esagerare nel comprare in abbondanza, ma anche non sprecare. Quindi si diventa cittadini responsabili in questo senso. Quindi una sorta di piazza nella quale discutere e condividere le proprie esperienze, perché comunque va detto che le persone, perlomeno che adesso costituiscono la squadra, i team for Italy, sono tutte persone di comprovata professionalità. Ciascuno porta il proprio background, ma insomma, quando le intelligenze ci sono, anche il dibattito e la qualità della conversazione in rete, o comunque del contributo in rete, è di buon livello. Quindi l'obiettivo è quello di fornire degli strumenti di crescita di cittadinanza. Fornire degli strumenti, ma stimolare nei cittadini la ricerca dei propri strumenti, perché come io ho le mie competenze, il cittadino, l'utente che si collega con Team for Italy può offrire a Team for Italy o comunque alla comunità virtuale, e poi passeremo a quella offline ovviamente, delle proprie passioni, idee, suggerimenti. Le signore che hanno mandato le ricette sono semplici pensionate o insegnanti o mamme, quindi persone che... Ma ciascuno manda la propria ricchezza, il proprio patrimonio. Manda la propria ricchezza, esatto. L'obiettivo successivo è uscire dalla rete, entrare nella società, attraverso delle azioni molto semplici, ma comunque vanno strutturate in tempi e luoghi determinati, che possono essere convegni, giornate a tema, o addirittura dei percorsi da proporre alla scuola, dei percorsi educativi. Ecco, tutto nasce da una precedente esperienza che ha il nome simile, Progetti Educativi. Progetti Educativi è quello in cui mi occupo, diciamo, nella mia vita, è l'elaborazione di progetti per il mondo della scuola, dalle elementari alle superiori, quindi dalla scuola primaria fino alla superiore di secondo grado, dei progetti di educazione e di esperienza per i bambini e per i ragazzi da affiancare, da proporre alle insegnanti. Sono tutti progetti gratuiti, quindi la scuola non deve corrispondere a alcun tipo di compenso o di costo e propongono dei percorsi che abbiano come obiettivo lo sviluppo delle competenze. Nelle nuove linee guida della comunità europea, dove si parla di scuola per competenze, di apprendimento per competenze e non per materie, quindi un bambino non deve imparare la matematica, ma a cosa serve la matematica per imparare a fare certe cose, i progetti sono strutturati proprio in quest'ottica. Al bambino si fa vedere un percorso in cui alla fine dovrà fare qualcosa. Questo ovviamente è calibrato in base alla fascia di età, quindi per i più piccoli sarà più giocoso con la realizzazione di video, di libricini, di poster, che poi comunque vengono tutti filmati, animati e messi sul sito. Per i più grandi potrebbero essere dei percorsi, come già svolgiamo per le medie e per le superiori, di peer education, educazione tra pari. Cosa significa? Se io vado in una classe e dico a un ragazzino, adesso io ti insegno una cosa, posso catturare la sua attenzione, ma fino a un certo punto. Se invece gli propongo di diventare un insegnante di un'altra classe, ovviamente l'ho conquisto al 100%, quindi i ragazzini delle medie vanno dai loro coetanei o dai bambini più piccoli, e la tematica è, tra virgolette, un pretesto, perché io posso andare a parlare di diritti dei bambini, come di acqua, come risorsa preziosa, come anche di integrazione, di solidarietà. Quindi la tematica è una proposta che noi facciamo, spesso in accordo con gli insegnanti e con i programmi didattici, ma la metodologia è quella della peer education. Per esempio, l'anno scorso abbiamo portato una classe delle superiori per una settimana a fare docenti alle scuole elementari. Ogni quattro ragazzi gestivano una classe di elementari, dal lunedì al venerdì, e nei due mesi successivi, per tutti i giovedì pomeriggio, sempre questi ragazzi delle superiori hanno fatto da tutor a dei ragazzi delle medie, in previsione dell'esame di terza media. Voi sarete sicuramente bravi, ma trovate anche degli insegnanti illuminati. Dobbiamo avere la loro collaborazione, perché ovviamente l'insegnante deve in qualche modo sostenere, accettare il progetto, perché io posso andare in una scuola, un progetto educativo può andare in una scuola e proporre una giornata di approfondimento e la cosa finisce lì, oppure un insegnante interessato può proporlo durante i mesi successivi con delle attività, con dei richiami all'attività svolta e addirittura con successivi incontri. Di sicuro interessa il fatto che questa proposta sia gratuita, ma voi come riuscite a farli quadrare i conti dell'operazione? I conti dell'operazione spesso sono in un momento di investimento personale di progetti educativi e di Team4Italy, perché come dicevamo prima c'è questo desiderio di cittadini di mettere a disposizione delle competenze, non c'è una richiesta di ritorno economico al momento, nel senso che se siamo consapevoli che per lungo tempo sono stati tolti fondi alla cultura, alla scuola, all'istruzione e adesso noi dobbiamo chiedere di nuovo al nostro governo di reinvestire nel tempo, altrimenti continueremo a impoverirci culturalmente. Come cittadini per primi ci proponiamo mettendo a disposizione al nostro tempo le nostre competenze. Ovviamente per i costi vivi dei progetti, che sono i materiali, i rimborsi sui materiali, cerchiamo presso la società civile delle piccole aziende, dei piccolissimi finanziamenti per andare a coprire i costi dei progetti. Ci state riuscendo anche in questo momento? A volte sì, a volte no, ma comunque i progetti vengono svolti, quindi c'è un ulteriore impegno da parte di questi cittadini che dicono ok, si fa lo stesso, il progetto merita, i risultati non li vedremo noi, ma li vivranno i ragazzi, se li vedranno nella loro vita, perché saranno dei piccoli esempi di esperienza, di confronto. Anche vedere un adulto che si spende per loro è una cosa importante, non è tutto misurato sul discorso del reddito, del guadagno, del tornaconto personale. Il punto è uno, se il mio obiettivo sono io o è il progetto, io devo vedere cosa mi porto a casa, ma se il mio obiettivo è il ragazzo, tutto il resto sparisce, perché il mio obiettivo è fornire un percorso di educazione e di magari cambiamento delle abitudini per quel ragazzo, per quella classe. Logico che poi i conti bisogna farli, però c'è un'ottica completamente diversa. Su questo anche le aziende iniziano a capire l'importanza di investimento in questo senso, quindi un'azienda che vuol fare una pubblicità, anziché fare volantinaggio, potrebbe sostenere un progetto in una scuola per dare anche alle insegnanti degli strumenti in più per fare dei percorsi. Grazie ad Alessandra Giraldo, che ricordo essere la responsabile di progetti educativi di Team for Italy, l'invito è andare a vedere entrambi i siti, non so se è una forza della natura sicuramente, però qui c'è la forza delle idee. Complimenti. Grazie. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.